siamo tornati e spacchiamo tutto nuove follie dieci comici piacere ciao a tutti la regola delle regole non ridere ha risa qualcuno che cos'è questa stanza qua dove ci sei tu e poi in quel caso non si può fare ma che vada mi sembra inizialo oltre bella storia rega chi ride e fuori io oltre essere un attore sono anche roberto bolle mi lascia usiamo come arma segreta sono il sequel di posamen riposa un caldo saluto fumante un bravo pazzo nei migliori schermi il soluzione il soluzione il soluzione il soluzione